Stai ascoltando ABC Marketing News, il podcast di InfoMyWeb dedicato a professionisti e aziende che vogliono sfruttare il marketing per far decollare il proprio business. Ma ciao, io sono Brennan Kierke e oggi ti parlerò della sfida di LinkedIn Marketplace a Fever e Upwork. In questo periodo pandemico molti datori di lavoro stanno esplorando i vantaggi dei lavoratori a distanza, altri invece non sanno dove cercare il talento giusto. Pubblicare un annuncio nel tuo giornale locale spesso non funzionerà in quest'ambiente. Si stanno diffondendo delle comunità di liberi professionisti come Upwork e Fever per supportare la forza lavoro freelance. Questi siti sono un network in cui trovare liberi professionisti con le competenze specifiche, assegnare progetti e persino monitorare il lavoro dell'appaltatore scelto. Nel 2020 queste piattaforme hanno fatto registrare una crescita a doppia cifra, fino al 37% rispetto all'anno precedente. In questo mercato ha deciso di entrare LinkedIn con il progetto in fase di costruzione, Marketplaces, del tutto simile ai siti citati, contando su una base che supera 740 milioni di utenti a livello globale. Sicuramente una novità da seguire attentamente. Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se vuoi inviarci commenti, suggerimenti, per ricevere maggiori informazioni o consulenze per migliorare il tuo marketing, scrivici a podcast.info.myweb.com Ci trovi su Facebook, Instagram e LinkedIn. Visita il nostro sito www.info.myweb.com dove troverai numerosi suggerimenti per il tuo marketing e tutti i nostri servizi. O vieni a trovarci presso la nostra sede a Biterbo. Ti aspettiamo! Ciao! Ciao! Ciao!